La mia storia è un pezzo di questa terra che scende verso il mare. Giù verso il mare c'è la libertà. Se voglio una fotografia della libertà, io penso al mare. Mio nonno era il fotografo del paese, faceva il fotografo e il parrucchiere. Aveva il negozio in piazzetta, dove c'è la fontana. Tutte le vecchie foto del paese le ha fatte lui e mia madre lo accompagnava portando le lastre. Aveva sei figlie, poi alla fine è arrivato il maschio e si è fermato. È arrivata anche la guerra e la famiglia è sfollata a cretti. Da lì hanno visto venire sul fumo delle macerie della casa, completamente rasa al suolo dalle bombe. Quando sono tornati, sono andati a vivere nel caruggio, sul mare, in attesa di ricostruirla. È ricostruendo casa che si sono incontrati mio padre e mia madre. Avevano 27 anni. Mio padre era di Clavesana, nelle Langhe, era orfano. È venuto a Genova per lavorare. Poi è arrivato qui, a scavare macerie. Mia madre era tutta a casa e chiesa. Usciva sempre con il libro delle preghiere in mano. Mio padre l'ha vista, si è informato. Gli hanno subito detto che era molto religiosa. È riuscita a darle un appuntamento, attraverso un amico che l'ha detto a un'amica. A Pieve Ligure, dalla riva di San Gaetano. Per l'occasione, mio padre è andato ad affittare un vestito e si è presentato per tempo elegante. Quando mia madre arriva, Mica è sola. Dietro di lei ha tutto il codazzo di parenti venuti a curiosare. E la prima cosa che gli dice è che è una ragazza molto di chiesa. Beh, lui non sa bene cosa dire. Si mette le mani in tasca, tocca, sente qualcosa. Mio padre ha sempre detto che è accaduto così. È stato il caso. Dai pantaloni affittati, tira fuori un rosario. E gli viene la risposta pronta. Oh, ma anch'io dico il rosario tutti i giorni. Così, dopo un anno si sposano. Il 19 settembre del 46. 25 anni dopo, con mio marito è andata in questo modo. Lavoravo al porto di Genova, in un'agenzia marittima che faceva i biglietti per la Sardegna. E lui era responsabile delle prenotazioni per una compagnia ai canguri. Tutte le sere, dopo le sei, stavamo un'ora al telefono per controllare e sistemare queste prenotazioni. Dopo un paio di mesi, lui capita in ufficio e le mie amiche mi dicono guarda, guarda, quello è l'aldo che ti telefona tutte le sere. Uh, mamma mia, penso io, che brutto. Poi, una sera, mi invita a prendere un aperitivo a bocca d'asse. A bocca d'asse io non c'ero mai stata. Era a luglio del 1971. E ci siamo dati del tu. Mi ha riaccompagnato a casa con la 500 grigia. Il mese dopo, esattamente il 5 agosto, mi ha invitato a cena. Abbiamo fatto la strada di Bargagli, siamo arrivati a Lumarzo, dove c'è il fuoco di Bosco, un ristorante famoso per i funghi. Poi siamo scesi giù, verso il mare. C'era la luna piena. Siamo arrivati a Camogli e sotto il castello del Dragone ci siamo baciati, la prima volta, sul mare. Ogni mia mattina inizia con la messa e dopo la messa, ogni mattina, passo in spiaggia per ricaricarmi. Io vado sempre in giù, dove c'è il mare, che è la porta per la libertà, anche se non so nuotare.